Il signe, a spargere avanti a sé Bernardeschi, e non sbaglia, ecco il primo gol ... del match, più che meritato di lei hanno sprecato parecchio, alla fine però sono riusciti a trovare la rete Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore ma poi calciato forte dalla media distanza il portiere non ha avuto il tempo di intervenire